buongiorno ragazzi oggi volevo fare un video sulla rasatura della testa con gel e farò una recensione su questo prodotto che è il king of shapes gel ovviamente è un gel che ho trovato su amazon è un gel che si trova bene prodotto in inghilterra e quindi si può trovare soltanto diciamo su amazon visto che anche su amazon italia è presente io ho comprato su amazon doccia volevo fare questo video perché non avevo mai provato la rasatura della testa con gel ho provato un paio di volte devo dire che è super è molto diversa dalla rasatura quindi fatta con schiuma secondo me perché è una sensazione un po diversa innanzitutto perché si vede dove si rasa quindi da un certo punto di vista è molto meglio però c'è anche da dire che potrebbe essere una sensazione strana appunto vedere bene dove si rasa quando si è abituati con la schiuma è comunque molto importante vedere dove si rasa quindi la rasatura con gel potrebbe anche aiutare in certi casi chiaramente io ho provato solo con l'utilizzo della lametta si può andare bene anche con i rasoi penso di sì quelli che vanno con la rasatura wet sicuramente andrà bene anche il gel comunque oggi proviamo questo e vediamo come va per fare questo test utilizzerò il twin shaver e la lametta gillette che secondo me è l'abbinamento perfetto per questo tipo di rasatura come sempre inumidire bene la testa con un po di acqua calda in modo che da preparare bene la cute e la testa questa è sempre la prima cosa da fare una rasatura diciamo tradizionale quindi king of shapes gel po sulla testa non tantissimo lo lasciamo giusto un minuto per fare in modo che si assorba un po e poi vediamo come va vedete com'è dopo che è stato messo sulla testa è un gel molto fresco e il sapore è quello del tea free quindi ha un sapore molto fresco e molto forte buono piacere a tutti però è molto 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 buono poi per per la rasatura prima parte con il twin shaver perfetta super glide effetto quindi rasatura fatta in maniera perfetta e velocissima devo dire prima parte con twin shaver perfetta allora col gel per praticamente in meno di due minuti con twin shaver e gillette rosatura perfetta liscia e ora devo solo dare una sciacquata con un po di shampoo e il lavoro è finito chi si rade lo sa la parte più bella della rosatura alla fine quando si sciacqua e si sente la testa fresca e questo è il mio shampoo al tea free che uso dopo per rifrescare la testa in questi casi si dice wow rasatura perfetta due minuti testa liscissima nessun problema chiaramente bisogna avere un po di esperienza quando tu scevere con la lametta per ottenere un risultato buono ma sicuramente gel anche quell'effetto diciamo glide quindi fa scorrere abbastanza bene alla lametta quindi aiuta in questo caso anche la rasatura il prodotto è questo vedete nell'immagine cosa dire molto buono molto buono provate provate anche voi usare magari un gel per la rasatura della testa questo nasce a dire la verità per la rasatura della barba quindi io per l'ennesima volta ho fatto semplicemente una prova ad usare una cosa nata per la barba ad usarla per la rasatura della testa e devo dire esperimento buono non saprei se questo è creato per la rasatura della testa probabilmente no ma comunque devo dire che questa prova è andata bene io lo proverei sempre tenendo conto del fatto di la rasatura chiaramente facendo attenzione potrei provarlo anche con un rasoio secondo me questo anche con un brown o con un remington o con un pitbull sicuramente va bene è stata solo questione di provare ma sicuramente il principio è che praticamente il gel lubrifica la testa e quindi si riesce a tagliare meglio quindi presumo che il principio vada bene anche per i rasori elettrici e petto l'ho trovato su amazon doccia ma ho visto anche che si trova su amazon italia quindi secondo me acquistabile viene dall'inghilterra quindi prodotto fatto in inghilterra ottima qualità l'azienda produce prodotti da tanti anni per la rasatura quindi è sicuramente molto forte in questo campo provate e fatemi sapere nei commenti se vi piace la rasatura anche con gel e ci vediamo alla prossima ciao